Riparte il settore del turismo, dell'economia e dell'accoglienza dopo la chiusura forzata a causa della pandemia e riparte anche grazie all'arte, alla moda e a progetti innovativi che coinvolgono il mondo della cultura. Soul City a Napoli, realizzato da Monica P., artista e imprenditrice con spirito visionario, è un art B&B che promuove appunto un progetto che unisce nelle quattro stanze Africa, Messico, India e Giappone anima e comfort in uno spazio dedicato all'arte to cure. Soul City non vuole essere solo un B&B ma vuole dare un'offerta un po' diversa al turista che viene a Napoli che è ovvio che bagherà, girerà per le strade di Napoli però anche all'interno di questa struttura può godere della visione di opere d'arte e perché no anche del relativo acquisto o può promuovere tutte quelle iniziative culturali che io scelgo di rappresentare mese per mese. E dall'arte si ricomincia con personaggi da indossare, la personale di Antonio Conte che con le sue 16 tele celebra un momento storico vissuto al femminile. La donna ha trascorso il lungo periodo di pandemia da Covid con maggiore difficoltà, dividendosi tra smart working, dad, faccende domestiche e costretta nonostante il peso delle giornate e la preoccupazione del presente e del futuro a rimanere in piedi indossando la maschera della forza, dell'instancabilità e del coraggio. Le maschere in questa mostra sono gli abiti colorati, stravaganti e da tocco un po' retro creati dalla stilista e designer del vintage Lelle. Molte sono donne che io conosco personalmente, donne che hanno fatto parte della mia vita. Altre invece sono donne alle quali mi rifaccio, come nel caso della donna clown. Nasce nel 2019, io stavo ritraendo una mia amica, una mia amica che non era così, era diversa. In quel momento ci fu anche tutto quel movimento delle sardine, quindi contro il fascismo, contro la destra, contro Salvini e nello stesso momento in Cile fu uccisa una donna e ci furono tutti dei movimenti contro i femminicidi. Mi sembrava un momento storico importantissimo e quindi ho voluto ritrarre quella donna con in testa il copricapo delle sardine. Mi sembrava un momento dirompente. I colori logicamente sono tutti colorati, i tessuti, il velluto soprattutto perché lo trovo molto caldo, il jersey e la seta e l'animalier. L'animalier nella mia collezione non può mai mancare, io lo amo perché io dico che il vestito deve anche trasmettere molto la personalità della donna.